Beffa per il Bari, che a Frosinone va molto vicino alla seconda vittoria in trasferta, rimediando un pareggio al quinto minuto di recupero che ha il sapore di una mezza sconfitta. Senza Caputo squalificato e De Luca a prendersi sulle spalle la responsabilità dell'attacco bianco-rosso e l'ex Atalantino si rende subito pericoloso con una incursione che viene fermata dalla difesa Ciociara. L'occasione più pericolosa nella prima parte di gara però la costruisce il Frosinone con Matteo Ciofani che impegna Donna Rumma in una deviazione di pugno. Il Bari è in palla e ancora De Luca imbeccato da Stevanovic conclude su Pignacelli in corsa, poi è lo stesso Stevanovic a calciare alto da buona posizione. Dall'altra parte è Daniel Ciofani a far venire i brividi con una conclusione che si spegne a fil di palo. Il momento sembra propizio per il Frosinone che sfiora il vantaggio con la girata di Soddimo che scheggia il palo. A sbloccare il risultato è invece il Bari con il tracciante di Donati dai 25 metri sul quale arriva in ritardo Pignacelli. La reazione dei padroni di casa dovrebbe occupare tutto il secondo tempo ed invece al di là di questo colpo di testa di Paganini, palla alta sulla traversa, il Frosinone si rende pericoloso solo nel finale di gara, ancora con un colpo di testa, questa volta di Frara, che farà gridare al gol e poi con la carambola all'ultimo minuto di recupero che si conclude con il tappin di Paganini sulla corta respinta di Donna Rumma. E la beffa per il Bari rimasto in 10 per l'infortunio assalviato e i cambi già effettuati e la sensazione di aver lasciato due punti in terra ciociara.